Vertice a Palazzo Chigi oggi tra il Presidente del Consiglio Mario Draghi, il Commissario straordinario per l'emergenza Covid Francesco Figliuolo e il Capo della Protezione Civile Fabrizio Curcio. Tema del giorno il punto sul piano di vaccinazioni, anche alla luce della disomogeneità nella somministrazione delle dosi nelle varie regioni. Obiettivo quello di velocizzare la campagna vaccinale nella direzione di 500.000 inoculazioni al giorno, a fronte delle attuali 200.000 in Italia, a causa della mancanza dei vaccini. In attesa del siero di Johnson & Johnson e di raggiungere l'obiettivo prefissato, si tenta la risalita con l'arrivo di oltre 333.000 dosi di Moderna e i nuovi stock di Pfizer previsti, mentre mercoledì prossimo ne arriveranno altre 279.000 da AstraZeneca. Grazie a tutti.